Quindi inneschiamo la camola cucita, infilandola appena sotto la testa, la mandiamo sul filo, dopodiché la riprendiamo, rientriamo con il lamo poco sotto la testa, lo facciamo correre lungo tutto il corpo e usciamo poco prima della coda con la punta del lamo. Tiriamo il filo, la camola sale e l'innesco è fatto. La pesca della trota a laghetto con le tecniche dello striscio è basata sul principio fondamentale della rotazione dell'esca e quindi è fondamentale che il nostro innesco, qualsiasi esso sia, effettui la migliore rotazione possibile per stimolare l'aggressività delle trote. Grazie